Il tribunale dell'ONU che ha indagato sulla morte dell'ex premier del Libano Rafiq Ariri ha consegnato oggi quattro richieste d'arresto alla giustizia di Beirut. I nomi dei quattro non sono stati rivelati, ma dovrebbe trattarsi di membri del movimento sciita Hezbollah. Il figlio di Ariri, Said, ha parlato di momento storico per il paese e ha chiesto al governo di Beirut di cooperare con l'inchiesta, ma c'è chi teme l'esplosione di nuove violenze nel paese. Gestiremo questa situazione con responsabilità e realismo, basandoci sul fatto che si tratta di una decisione e non di un giudizio definitivo, ha detto il premier Najib Mikati, il cui governo è sostenuto da una maggioranza di cui fa parte anti-Hezbollah. Ariri è stato ucciso da un'autobomba nel febbraio 2005. La sua morte ha dato il via a una rivolta popolare che ha portato alla fine del protettorato esercitato dalla Siria sul paese dei Cedri.